L'anno che ha appena passato dal punto di vista dello smog è stato il peggiore dell'ultimo decennio. 102 giorni di sforamento delle PM10 nel 2017 a Padova quasi un giorno su tre ha registrato un inquinamento dell'aria superiore ai limiti fissati dalla legge 50 microgrammi per metro cubo d'aria da non superarsi per più di 30 giorni all'anno. Il problema principale è l'elevata circolazione di automobili. Solo una piccola parte dei soldi che il comune incamera con le multe in tangenziale fatte dagli autovelox si può rinforzare il servizio degli autobus portando alle frequenze dei passaggi più rapida. E questo è una delle cose che porterebbe molta gente a prendere l'autobus se passasse ogni cinque minuti invece che ogni quarto d'ora. Padova è la città più inquinata del Veneto. Tra PM10 e ozono i giorni di sforamento salgono addirittura a 155, quasi uno su due. L'unico aspetto parzialmente positivo riguarda i riscaldamenti. Il riscaldamento a Padova incine di meno del traffico perché sono praticamente tutti a metano. Tuttavia comunque è bene riuscire a mantenere una temperatura in casa intorno ai 19 gradi per evitare eccessive emissioni.